Si svolgerà domani 6 dicembre alle ore 15.30 a Teramo l'incontro nel quale i vertici sanitari della regione, oltre a quelli della ASL Teramana, illustreranno il progetto del nuovo ospedale, il cui sito è stato da tempo individuato nell'area della frazione di Piano Daccio. Ma davanti alla Camera di Commercio, luogo dove si svolgerà l'incontro, saranno presenti anche i rappresentanti del vasto fronte, composto da 28 sigle, tra comitati cittadini, sindacati e associazioni, riuniti sotto il nome Promazzini. Perché protestiamo? Perché riteniamo che, spetta al Consiglio Comunale di Teramo, la scelta dei siti, perché con delibera del 2019 sono stati preposti 5 siti, quindi noi vogliamo che questi 5 siti siano trattati tutti allo stesso modo, tra cui anche il Mazzini. Noi sul Mazzini abbiamo l'idea di migliorarlo, abbiamo presentato una proposta per migliorare, per cercare di ampliare il Mazzini e per cercare di fare lì allocare il nuovo ospedale. Sul futuro della sanità teramana è necessario un confronto su cui il comitato chiede da tempo alla ASL di spiegare in maniera concreta come intende riorganizzare la rete di assistenza sul territorio. Inoltre va ricordato che nei mesi scorsi sono state raccolte oltre 10.000 firme per dire no alla nuova location. L'idea di Pianeto di Daccio, secondo noi, è inopportuna, per tanti aspetti, le abbiamo elencate, gli aspetti, ma il più importante è quello, diciamo, la criticità ambientale. In questi giorni stiamo drammaticamente verificando le cose che stanno accadendo, gli eventi che stanno accadendo a Dischia e sono accadute nelle Marche. Vorremmo che questa cosa venisse tenuta in mente da chi sponsorizza il nuovo ospedale a Piano Daccio. Perché? Perché chiaramente è un sito non adatto, perché sta sul fiume, è un sito che è lontano dalla città, è un sito che ha bisogno poi addirittura di essere confortato con una delibera di modifica al piano regolatore. Quindi noi riteniamo che non ci costa molto il sito rispetto all'idea nostra a Mazzini, quindi noi riteniamo che la cosa debba essere criticata e noi la critichiamo attraverso questo sitino.